Cooperative costituite ad hoc in cui spostare il personale in modo da abbattere i costi a discapito dei lavoratori e del servizio stesso, ovvero il trasporto dei valori da banche, uffici postali, catene di supermercati, che come si può intuire è regolamentato da norme ben precise. Un modus operandi di alcuni istituti di vigilanza che preoccupa non poco l'Ugeli Abruzzo, come conferma Armando Foschi, segretario provinciale Chieti Pescara. Foschi, questo è un problema che voi avete segnalato non da oggi. Sì, è un problema che si trascina da tempo, la definiamo una giungla e l'Ugeli è molto preoccupata per quello che accade nel mondo degli istituti di vigilanza. Cosa accade? In pratica alcuni istituti di vigilanza creano delle cooperative ad hoc per trasferire i propri dipendenti per trasporto danaro e maneggio danaro. E questo cosa significa? Significa per l'azienda minor costi, però sfruttamento del lavoratore, quindi maggiori introiti per l'azienda, maggiore sfruttamento per il lavoratore e anche e soprattutto per la sicurezza del lavoratore. Chi è che dovrebbe controllare magari che questa sorta di subappalto, chiamiamolo così, sia in regola? Allora, ogni volta che denunciamo questo fenomeno noi informiamo sempre la prefettura, la questura e l'ispettorale che sono gli organi che devono vigilare su questo fenomeno. Siamo tornati nei giorni scorsi a segnalare nuovamente questa giungla, ripeto tra virgolette, perché è una giungla, quindi aspettiamo maggiori controlli e decisioni, soprattutto per la tutela dei lavoratori. Sulla questione sentiamo anche un'altra voce, quella di Fabio Urbini, segretario regionale UGL, sicurezza civile. Che in Abruzzo, come in tutta Italia, dal primo marzo alcuni istituti di vigilanza in Abruzzo sono un paio ad operare sul settore trasporto valori, uno di questi ha già preannunciato che eliminerà le guardie giurate dalla sala conta, quindi per la contazione denaro del trasporto valori, sostituendoli con i portieri. Portieri facenti parte di una cooperativa estera. Altra figura, diversa dalle guardie giurate, quella dei portieri. Esatto, altra figura, quindi per capirci il cliente fa l'appalto con l'istituto di vigilanza che ha una licenza e si ritrova a contare all'interno di questo istituto di vigilanza dei portieri che non hanno qualifiche, fanno capo a una cooperativa esterna che abbatte i costi e che va in deroga al contratto. Quindi ci chiediamo se questa manovalanza sia in regola con quelle che sono le richieste della prefettura, delle licenze, della Banca d'Italia, perché ovviamente questo passaggio dimezza i costi, creando un gap anche negli istituti concorrenti. Molti a cui è stata fatta la proposta di guardie giurate hanno rifiutato ovviamente, perché chi ha una famiglia deve tirare avanti con 1200 euro, non si può ritrovare di punto in bianco a fare lo stesso lavoro con 500-600 euro.